Salve a tutti amici, bentornati su Pausa Caffè. Partiamo subito con la news, ma potrete lasciare un bel like qui sotto per aiutare semplicemente il canale. Potrete commentare tutte le notizie qui sotto, proprio nella sezione commenti. Ci sono ancora parecchi strascichi dopo la lite tra Antonio Caprarica e Teoma Muccaria ballando con le stelle. Chiarito che non si è trattato di una rissa, ma di una light dai toni accessi, come ha confermato Mili Carlucci e lo stesso giornalista, tra i due duellanti resta ancora parecchia tensione. È stata una discussione molto accesa, dai toni molto accesi in cui io ho detto quello che pensavo, che trovavo queste battute non degne di uno che vuole fare quello che vuole fare lui, battute da comico di terza classe, ha spiegato Caprarica a Davide Maggio. Riferendosi alle parole usate da Mammuccaria dopo la sua esibizione, balli come un cane morto senza una zampa. Il provetto ballerino 73enne, però, ha perfino pensato di lasciare il talent show di Rai 1, cosa che non esclude se non verrà il garantito rispetto. Parole che ha ripetuto anche alla vita indiretta, in cui era ospite con Paola Perego, la quale, invece, ha cercato di prendere le difese di Mammuccaria. Raggiunto da Davide Maggio, Antonio Caprarica ha voluto dire la sua sulla lite con Teo Mammuccaria ballando con le stelle, nata dietro le quinte del programma dopo i continui punzecchiamenti sulla pista. Finire nel trash è una cosa che, se l'avessi immaginata, non avrei mai accettato l'invito a partecipare al programma. Per me ballando è una trasmissione elegante, simpatica, piacevole in cui magari uno litiga coi giurati ma litiga a favore di telecamera. Mai avrei immaginato che un concorrente, livido di rabbia perché mi avevano dato 10, dice che sono un tronco. E va bene, sono un tronco, e passi il tronco, ma un cane morto senza una zampa. Non so che altro poteva dire. E nuna roba. L'ex mezzobusto del Tg1 ha spiegato di aver chiesto al collega ballerino delle pubbliche scuse, tu adesso ti devi scusare pubblicamente per le espressioni da maleducato che hai adoperato. E lui, ma io non ho detto niente, in fin dei conti tu hai detto che mi davi delle bastonate. Insomma, un botta e risposta che è andato avanti per circa un minuto e che ha fatto perfino pensare a Caprarica di lasciare il programma. All'inizio avevo detto, parlerò con Millie, mi dispiace molto ma così non posso continuare. Poi sinceramente, con altrettanta sincerità ti dico che ho pensato che lasciare sarebbe stata una mancanza di rispetto per il pubblico. Niente dimissioni, quindi, per il giornalista che resta però in allerta. Per me questa storia è finita. Per me non ci sono più storie con questo concorrente, per me la storia finisce qui. Poi, siccome sono una persona civile, se si rende conto di aver esagerato. Il punto cruciale è il rispetto, è quello che esigo. Io continuerò con la trasmissione finché la trasmissione garantirà questo rispetto. Se non lo garantisce più è ovvio, su questo sono stato chiarissimo con i responsabili della trasmissione che peraltro conosco e sono delle persone che hanno fatto del rispetto la loro cifra. Ospite con Antonio Caprarica alla vita in diretta, Paola Perego ha voluto spezzare una lancia in favore di Teo Mammuccari, protagonista della lite con l'ex volto del TG1. Teo e Antonio hanno avuto una discussione animata. Io amo molto la comicità di Teo. Lui trova una vittima e si accanisce rendendola un personaggio, come è successo con la Lambertucci. A me fa ridere perché ironizza sul nostro modo di ballare, non sulla vita privata e personale. Per la concorrente del talent, quindi, la responsabilità della lite non è di certo da una parte sola e ha rimproverato a Caprarica di aver spostato Antoni dalla gara a un attacco personale. Quando avete litigato tu lo hai attaccato sul personale. Lui ti attacca sul modo di ballare. Il video finisce qui, ma se sei interessato alle news puoi iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i nuovi video.